della Piniz di Porto Torres, in Sardegna, si è avvoluto nel carcere della Senara, un posto che prima era stato ospitato a supercarcere, camonissimi, mafiosi, roi mazardo, brigate rosse, e hanno avuto quest'idea, cioè se l'Italia si è incontrata all'isola dei Comossi, noi abbiamo l'isola dei Cassi Integrati, e così hanno creato questo reality, l'unico reality come la tituliscono loro, reale. Chiedo a Fiorella, in Fasceglie, regista, come è venuta a conoscenza di questa storia e come ha deciso di raggiungere gli operai sull'isola della Senara? E lì, fa incontrato Andrea, Antonio, Pietro, loro hanno raccontato l'occupazione che stavano facendo sulla Senara, e mi ricordo che quella sera stessa, ma si è diventato a Pietro, io vorrei fare qualcosa per voi. L'avevo sentito immediatamente come a conoscenza, poi sono passati dieci giorni, un po' di tempo, sono andata a Roma, ho iniziato a Roma, di tornare da loro, sono stata da loro un giorno nel carcere, e aveva cercato il produttore, ho trovato Angelo, e mi sono partita alla fine. Ma qui sono proprio immediatamente coinvolta, loro sono molto coinvolgenti. Io avevo letto i giornali, e mi sembra subito molto interessante, però all'inizio avevo detto di notte, perché in Italia fare i documentari è una cosa difficilissima, il risultato è che si perdono dei soldi, si riesce a far rivedere un pubblico sufficientemente numeroso sempre. Cosa succedeva? Lì all'Aatore Ragonese i ragazzi avevano deciso di rilanciare, proprio i più giovani vorrebbero ritunersi alla Senara, nel supercarce. Però questo è stato deciso a dicembre, faceva troppo freddo, dopo tre giorni ci avrebbero rincomperato, cosa dire, freddo, caldo. Allora noi anziani gli hanno detto, quando l'inferno c'erano più vite, vabbè, 24 febbraio, i ragazzi hanno fatto, dai forza, stai facendo un'isola dei famosi, facciamo l'isola di Cassa Integrale, e siamo andati. Lasci così, semplicemente.